bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video sono tony rosa nero e sono qui su clash o clans ragazzi prima di tutto volevo augurarvi un buon anno ovviamente spero che l'avete passato nel migliore dei modi e spero che passerete un'altra festività quella di della befana ovviamente noi quest'oggi stiamo facendo la guerra insieme ai miei due amici samuel killer e lollo killer ovviamente purtroppo il mio amico lollo killer non è presente però c'è insieme a me samu killer ragazzi se vuoi darci un sale saluta samue ciao bella ora faremo il primo attacco ragazzi in guerra e vediamo come va ah c'è pure alele mi doni allora samuele se vuoi farci il tuo primo attacco vai allora devo far uscire tutte le truppe dal castello posso fare il cerchio poi i stregoni guarda dove li mando come aspetta non ti ho capito i stregoni e i giganti come li mando per ora fai uscire le truppe del castello si quindi tutte le truppe e il guaritore si anche il guaritore con i giganti esatto allora fai uscire prima le truppe si il bravo quando lo mando appena si rompe la difesa aerea se vuoi lo puoi anche uscire però non è un problema basta che lo mandi nella difesa aerea e sei a posto vai ok provo no attacca ancora doni doni vai 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 però guardami in live vai vai ti ti guardo sto andando 3 2 1 via samuele eccolo qua ecco ah bene fai uscire il drago fai uscire il drago ottimo ok ottimo vai ahia il drago no il drago no peccato nooo peccato minchia ma questi vai vai ce la fai ce la fai nooo bomba gigante del cavolo vai vai nooo 49% ce la fai ce la fai si si scagnerà nel come si chiama vai 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 clic can cin si vi ci le fa vai e distruggiti questo cannone ottimo finalmente tutte però sarà un problema il tempo sarà un problema il tempo 60 per cento glielo fai che succede che cosa due stelle no però il 60 per cento a peccato però meglio di niente complimenti bell'attacco a quelli stanno in vantaggio va bene va bene non ti preoccupare ora vi faccio vedere io allora è il mio corrispondente qual è il numero il numero 14 guardiamo il 14 non è messo bene però se mi donano un drago allora mi faccio dare un pecca vediamo ciao samuel ragazzi finalmente mi hanno donato un drago l'amico mio malzio e ovviamente partiamo con il nostro carissimo attacco andiamo allora attacchiamo sempre con ciao 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 Grazie a tutti! Passiamo su attacco ragazzi, ovviamente sempre con questi attacchi non sono niente Partiamo con la furia di Re Barbaro! Sempre questa furia mi piace troppo ragazzi, questa furia di Re Barbaro è bellissima 1, 2! Che botta! Ma poi i draghi dicono molti che non sono un gran che durante le battaglie di quelle grandi Però, sfruttano un bel poco però Ah! Questo non l'ho visto completamente Perfetto ragazzi, 3 stelle per noi Bell'attacco Lasciate tanti per like ragazzi Noi ci vediamo a un prossimo video Ciao a tutti ragazzi!